Le condizioni dei pazienti covid stanno migliorando, i numeri sono scesi sia nei contagi che nei malati e nei ricoverati, ma la preoccupazione ancora c'è perché rispetto all'anno scorso si è in ritardo. In questo momento abbiamo ricoverato in ospedale 19 pazienti in malattie infettive e 3 in terapia intensiva e da più di una settimana non abbiamo ricoveri in terapia intensiva. La prudenza non è mai troppa e secondo la dottoressa Cola non bisogna festeggiare la chiusura dei reparti come se tutto fosse finito ma bisogna mantenere alta la guardia e considerare che i cluster sono quasi sempre familiari quindi anche se la letalità è bassa l'incidenza della malattia è molto alta. Lo scorso anno il fenomeno era ristretto a marzo e aprile quindi noi i primi di maggio già iniziavamo a vedere un calo della malattia. Quest'anno c'è stato uno spread di malattia molto più ampio, un'epidemia molto più ampia a livello anche di tutta Italia. Ci aspettavamo che sarebbe continuato un po' più a lungo, non così a lungo però adesso iniziamo a vedere gli effetti della campagna vaccinale sicuramente anche del fatto che la popolazione tende ad essere abbastanza rispettosa e anche un po' del fatto lecrima che sicuramente influisce come tutte le malattie di tipo influenzale. Che cosa ci dobbiamo aspettare da settembre in poi? La malattia non è in fase endemica, la malattia è ancora in fase epidemica quindi i casi continuano ad esserci. Dobbiamo continuare a vaccinare, a vaccinare tutta l'estate e tutta la popolazione deve aderire alla campagna vaccinale e continuare ad osservare le regole di prudenza in modo di arrivare a settembre con una buona copertura vaccinale ed anche tra vaccinati e guariti dalla malattia riusciremo a non riprendere la situazione che abbiamo avuto l'anno scorso a ottobre perché insomma comincia a diventare poi molto pesante. Dopo quasi un anno e mezzo di emergenza un bisogno è emerso in maniera forte quello di avere vicino i familiari per i pazienti covid e quindi la dottoressa Luisa Annacola sta aspettando la firma del direttore dell'area vasta 4 protempore Nadia Storti per quanto concerne un protocollo che consenta con le dovute cautele e con tutti i dispositivi di far visita ai pazienti in reanimazione.